Oggi il Porto dei Piccoli, assieme agli amici di Apagloid, nella spiaggia del Gaslini, abbiamo coinvolto una decina di bambini per farli giocare, fare attività del progetto Harbors and Children, per farli scoprire un po' il mestiere del porto, il viaggio che fanno i container. Tutti i bambini hanno costruito il proprio container e hanno partecipato alle attività con entusiasmo. Abbiamo presentato il nostro lavoro nell'ambito del progetto Harbors and Children per far capire ai bambini un po' la nostra realtà e il lavoro del trasporto marittimo. È stato davvero coinvolgente, hanno capito quello che facevamo, si sono interessati e è stato un successo. Grazie.